Non capisco perché la polizia penitenziaria sia l'unico corpo che non ha un dirigente appartenente al corpo ma dipende da un magistrato. Questa è una roba che non... Per quello che mi riguarda, quando torniamo al governo, perché ci torniamo, visto che siete agenti di pubblica sicurezza, venite sotto il ministero dell'interno e diventate...